No, niente, sono contento di essere qua perché con Faustos c'è un'amicizia veramente forte. Lui ha festeggiato i miei 70 all'Arena di Verona e io a Sanremo non potevo non venire per festeggiare i suoi 80, che è incredibile perché è uno sbarbato. Faustos è uno sbarbato, l'imidire, ciao. Grazie, grazie mille.